Rachel Kask resoconto Estratto Estratto rendere disponibili per i suoi concittadini ma a un certo punto non era riuscito a pagare gli anticipi agli autori di cui talvolta aveva tradotto lui stesso i libri per ridurre i costi a Londra era stato aspramente criticato anche dai suoi autori per non aver versato soldi che i libri per la verità non avevano ancora guadagnato era stato trattato a consumo di sprezzo da tutti minacciato di azioni legali e quel che era peggio era ripartito con la sensazione che gli scrittori che aveva venerato come grandi artisti del nostro tempo si fossero rivelati persone fredde ed egoiste cui stavano a cuore solo l'autopromozione e soprattutto il denaro aveva messo in chiaro che se l'avessero costretto a pagarli la sua casa editrice sarebbe fallita prima ancora di decollare come in effetti era accaduto quegli stessi autori vengono regolarmente respinti dall'azienda per cui adesso lavora alla quale interessa solo scovare best seller così ho imparato ha detto che migliorare le cose è impossibile e che ne sono altrettanto responsabili le brave e le cattive persone e che forse l'idea stessa di miglioramento è una fantasia personale solitaria quanto il luogo solitario di Angeliki siamo tutti a suoi fatti ha detto estraendo una cozza dal guscio con dita che gli tremavano e mettendosela in bocca all'idea di miglioramento a suoi fatti al punto che ha scalzato il nostro più profondo senso di realtà ha perfino contagiato il romanzo anche se forse ora è il romanzo che ci contagia così che ci aspettiamo dalla vita ciò che abbiamo imparato ad aspettarci dai libri ma io non voglio più saperne di questa concezione della vita come un continuo progredire il suo matrimonio ora lo capiva si era sempre ispirato al principio di progresso nell'acquisto di case terreni automobili nell'aspirazione a uno status sociale più elevato più viaggi una cerca più vasta di amici perfino fare figli sembrava una tappa obbligata di un viaggio folle ed era inevitabile ora lo capiva che quando non c'erano più stati oggetti da aggiungere o migliorare né obiettivi da conseguire o fasi da attraversare il viaggio sembrasse concluso e che lui e sua moglie si sentissero oppressi da un tremendo senso di futilità e da una sensazione di malessere che in realtà era solo una sensazione di immobilità dopo una vita di eccessivo movimento la stessa che sperimentano i marinai sulla terraferma dopo essere stati troppo a lungo in mare invece entrambi l'avevano interpretata come la fine del loro amore se avessimo avuto la capacità ha detto di riconciliarci con noi stessi di partire dall'onesta constatazione che non eravamo più innamorati ma tuttavia non volevamo farci del male ecco ha detto di nuovo con gli occhi lucidi se ci fossimo riusciti credo che avremmo imparato ad amarci davvero e ad amare noi stessi invece tutti e due l'abbiamo vista come un'ennesima occasione per muoverci abbiamo visto il viaggio di spiegarsi di nuovo davanti a noi solo che stavolta era un viaggio tra le rovine e la guerra per il quale entrambi abbiamo dimostrato l'energia e la prontezza di sempre